...comunque gli eventi che verranno registrati nella giornata di domani dovrebbero comunque essere leggermente inferiori rispetto a quelle che si registreranno oggi. E sulle preoccupazioni della Francia rispetto al passaggio della Concordia nel tratto di mare di fronte alla Corsica, il Ministro dell'Ambiente Galletti ha assicurato siamo e saremo controllori rigorosi, nessuno più di noi ha il cuore di nostro mare. Nel Misseno tre operai delle terrorie italiane sono stati travolti e uccisi da un terreno regionale tra le istruzioni di Lutera e Falconara, gli operai si trovavano scimbinati per motivi ancora da accettare. Perquisizioni in casa di quattro giovani sospettati di aver preso parte all'assalto ai tifosi napoletani prima della finale di Coppa Italia.